Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sono già delle date per quelle che possiamo richiamare le riaperture o la riapertura del paese. Fine del Green Pass, stadi, cinema, visite in ospedale. Vediamo, perché c'è già una data che ha tirato fuori il governo ed è il 10 di marzo. In Parlamento c'è intanto il decreto legge sul Covid in conversione, cioè le restrizioni, quelle più dure, devono ancora essere convertite dal Parlamento. Secondo me a questo punto potrebbe esserci anche qualche colpo di scena, qualche colpo teatrale, magari partiti che decidono all'improvviso di non convertire in legge il decreto Covid che ormai sono obsoleti. Ecco, un passo alla volta, dice Draghi, con gradualità. L'Italia deve tornare verso la normalità. Beh, vediamo le date. Cinema. E dal 10 di marzo si tornerà nelle sale del cinema, dei teatri, dove i bar potranno riaprire. Popcorn al cinema. La chiusura era prevista fino al 31 di marzo, ma l'aula della Camera, che ha approvato in via definitiva il decreto Covid, che proroga lo stato di emergenza e le norme sul Green Pass, l'ha modificata. Quindi, 10 di marzo c'è già la prima riapertura. Green Pass. Il governo studia gli allentamenti per quanto riguarda la necessità di avere le certificazioni verdi, poi di verdi che cosa avranno? Ma per ora, questo strumento, il Green Pass, resta in vigore per molte attività, nella formula base e rafforzato. Rimarrà almeno fino all'estate. Ma il governo sta studiando alcuni allentamenti. Già da metà aprile potrebbe essere eliminato per bar e ristoranti all'aperto e per tutte le altre attività all'esterno, compresi i circoli sportivi, un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che chiedeva l'abolizione del Green Pass dell'inizio aprile, però stato respinto. Questo è importante. Molto importante. Sistema a colori. E invece è stato approvato un ordine del giorno, sempre di Fratelli d'Italia, che impegna il governo ad attuare iniziative per superare del tutto il sistema a colori delle fasce di rischio. In realtà le fasce di colori non servono assolutamente a niente. Tra fascia bianca, gialla, arancione e rossa, per i vaccinati non cambia assolutamente nulla. Per i non vaccinati non cambia nulla, lo stesso perché hanno restrizioni dalla zona bianca alla zona rossa sempre. Quindi ci sono restrizioni costanti per i non vaccinati e apertura costante per i vaccinati. Questo è stato fatto apposta dal governo per fare pressione su chi ha deciso liberamente di non vaccinarsi. Sempre dal 10 marzo sarà nuovamente possibile visitare i familiari ricoverati in ospedale per 45 minuti al giorno, grazie a un emendamento di Italia Viva, al decreto legge della vigilia di Natale in conversione al Senato, approvato in Commissione Affari Sociali. Per quanto riguarda i guariti dal Covid, basterà fare un tampone dove aver completato il ciclo vaccinale primario. Per chi ha tre dosi di tampone non sarà necessario. La regola è valida in tutta Italia, anche nelle terapie intensive, e la novità è che i direttori sanitari non potranno impedire l'accesso dei parenti. Il governo ha accolto un ordine del giorno della Lega in base al quale, se la curva pandemica continuerà a scendere, si valuterà la possibilità per gli studenti con più di 12 anni di salire sugli autobus anche con il solo tampone negativo e non più con il Green Pass rafforzato. Sputnik. I cittadini stranieri vaccinati con il siero russo, non ancora approvato dall'EMA, potranno presto tornare nel nostro paese. È stato approvato dalla Camera un ordine del giorno che impegna il governo a risolvere con urgenza il tema dell'ingresso in Italia dei cittadini vaccinati con Sputnik che attualmente non possono ottenere il Green Pass. Per quanto riguarda gli stadi, nei prossimi giorni sarà invece ripristinata la capienza del 75% all'interno degli stadi che dal primo aprile non si esclude di tornare al 100%. Tornando a Sputnik, perché l'EMA non ha mai approvato, non è che ha detto no a Sputnik? Perché si sta aspettando da mesi e mesi una notizia su questo vaccino? Forse perché è russo? Concorrenza? Eh? Concorrenza? È tristissimo ma è così. Il business. Il bosenni, sì. Noi facciamo business. La parte economica è sempre preponderante in ogni cosa. I soldi vincono sempre dappertutto e dominano. Il denaro domina. Domina tutto. Vabbè, cosa vi devo scrivere? Adesso mi è venuta in mente una canzone, Domino Dancing, che non c'entra niente. Una canzone degli anni Ottanta, adesso poi la vado a cercare. Comunque, buone notizie del 10 di marzo, sì. Riapre almeno qualcosa in più. E poi c'è anche comunque l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che è stato bocciato da il governo, compreso Lega e compreso Forza Italia. Ma non aveva detto Salvini che voleva la riapertura subito e voleva stracciare il Green Pass? Ai, 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 ai Salvini, ai, ai, ai. Proprio ieri hai detto che volevi subito la cancellazione del Green Pass, eri già entrato in campagna elettorale. Ma quando Draghi ordina, attenti, riposo, tutti sugli attenti, avanti, marcio, uno, due, uno, due. Passo, cadenza, ve lo ricordate, almeno chi ha fatto il militare, io me lo ricordo, no? Terzo scaglione, 1993. Il Carra dal Benga e poi a Torino, alla caserma del secondo battaglione Genio Ferrovieri. I ricordi del tempo, purtroppo, tutto andrà perso un giorno. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video, tra una ventina di minuti. Intanto c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie, di fai da te. È già superato i 13.000 iscritti, non sono poi così pochi. Bene, grazie nuovamente, a presto.